Ok, deve esserci un modo per girare la ruota quassù. Qualcuno poteva avvisarmi che stavo per finire con il muso contro un paio di chiappe! Il terreno! È stato un terremoto! Un avvenimento occasionale ma non raro a Svartalfheim. Con tutte queste miniere il terreno non può che essere un po' instabile. La raggiungi la ruota da qui? Oh wow! L'hai abbassata esattamente fin dove ci serviva! Già! 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.